Auguri per restare nella finale, come ha spiegato il campionato? Ho vissuto bene, è stato un bel campionato del mondo organizzato a Parigi, a Albersi, grande struttura, palazzetto, siamo divertiti, grande organizzazione, grande pubblico e sono molto felice per la mia finale di sabato. E per la finale, come vas a prepararti? La finale oggi mi riposo un po', relax, no? E per sabato molto concentrato, molto concentrato per la finale, è il titolo mondiale. Il risultato? Oro. No, non lo so, non lo so. Ok, buona suerte. Grazie.